Ferdinando Caredda si è tenuta la manifestazione dei lavoratori stagionali, ma anche di tutte le categorie economiche e isolane, in più piazze. Innanzitutto il bilancio di questa manifestazione, ci si aspettava forse una partecipazione maggiore, ovviamente i contenuti erano importanti. Sì, si aspettava una maggiore affluenza, almeno da parte dei lavoratori. Però possiamo anche dire che è l'unica manifestazione che ha dato risalto mediatico in una maniera importante rispetto alle altre. Infatti ne hanno parlato tutte le reti nazionali e da un mese è nato un coordinamento qui in Campania che abbraccia le quattro realtà turistiche della Campania. Ischia, Penisola Sorrentina, Amalfi Sorrento, Concapri. Appena ho finito una riunione ci saranno altre azioni che faremo in futuro. E' da precisare che la manifestazione in piazza solo lei da sola serve a ben poco. Bisogna discutere, portare il grido della manifestazione sui tavoli preposti e lì bisogna essere incisivi. E per questo io nelle prossime ore inviterò tutti i rappresentanti di categoria di scrivere un documento insieme, di sverci davanti a un tavolo e insieme ai sindaci locali, i sindaci nelle zone a forte vocazione turistica di farci forza e di andare nei ministeri preposti a far sentire le nostre problematiche e la nostra voce. Ecco Ferdinando, allora in sintesi ricordiamo quelle che sono le vostre proposte e quindi un po' i punti che sono stati affrontati anche nella manifestazione. Allora le nostre proposte, la prima proposta che ahimè avevamo cantato vittoria però adesso si è tutto azzerato, erano le vaccinazioni delle zone a forte vocazione turistica perché vaccinando le isole, specialmente Capri e Ischia, diamo un messaggio a livello mondiale che i turisti possono venire ad Ischia e non possono correre alcun rischio per quanto riguarda la contaminazione. Quindi era un buon messaggio. Lo so che la mia voce è piccola però vorrei dare un messaggio di cogliere la proposta del Presidente De Luca e dei nostri sindaci che al più presto ci vaccinano al più presto incominciare il lavoro perché siamo davvero in ginocchio. Poi la seconda proposta è un ammortizzatore sociale che permetta di vivere con dignità tutti i lavoratori stagionali, questo anche per il futuro, però nell'imminente basta con questi bonus a pioggia ma creare proprio una struttura a monte. Questi bonus li dobbiamo dare agli enti preposti, agli enti territoriali affinché possono assumere e possono dare lavori socialmente utili perché dare 1.000 euro, 800 euro a un lavoratore non è restituire dignità ma è il lavoro che restituisce dignità. Un terzo punto è quello della decontribuzione. Oggi molte aziende soffrono, quindi nel momento in cui vanno ad aprire, siccome hanno sofferto una crisi antecedente anche al Covid che già stavamo in piena crisi economica e con il Covid non possono assumere tutti i lavoratori perché a quel punto ci sono dei costi che oggi le aziende non possono affrontare. Quindi ci appelliamo al governo di aiutare queste aziende di far assumere tutti i lavoratori senza limiti d'età e detassandoli perché non possono affrontare una spesa del genere. Quindi andremo in futuro a assumere gli under 35 e quelli dopo i 35 anni si troveranno ancora senza lavoro e chissà per quanti anni perché appunto le aziende paganti contributi non li possono assumere perché non possono sostenere i costi.